buongiorno ragazzi mi raccomando per chi volesse sostenere il canale lo può fare solo ed esclusivamente gratis con un semplice click iscrivendosi ed attivando la campanellina novanta su cento venerdì sera faremo una live diciamo che dopo un weekend per quanto concerne le decisioni arbitrali dopo un weekend imbarazzante ieri sera ci aspettavamo un po' tutti no la ciliegina sulla torta perché la direzione l'era unica quindi un'espulsione sacrosanta di cristante non viene sanzionata diciamo e voglio fare un appunto su un giocatore che a me piace tantissimo non è forse troppo bello a vedersi ma è un giocatore che nell'Olanda una nazionale dove calcio olandese calcio prettamente tecnico dove cambiano i ct ma lui è sempre titolare tra l'altro fa due gol Danfris in pochi giorni io non capisco perché non possa e non debba giocare Danfris perché se ci fate caso da quando c'è il problema contratto Danfris sta a sedere Darmian che ha overperformato che ha offerto delle prestazioni eccezionali all'Inter ormai all'età che lo attanaglia eh fare quel ruolo a trentacinque anni e dura a quei ritmi lì quindi avete visto Danfris cosa ha fatto i venti minuti insieme a Turam secondo me è stato uno ehm dei dei migliori in campo e questa è una cosa che secondo me va risolta eh anche perché poi si parla sempre rinnovo fatto rinnovo fatto è un anno e mezzo e si parla di rinnovo fatto ma ancora questo giocatore non firma lo sanno loro io non lo so perché non firma ma anche se non firma devi pensare al bene della squadra va fatto giocare perché Danfris a forza a personalità a fisico alla doppia fase è giovane quindi è un leone Danfris Denzel va fatto giocare sempre se sta bene ieri sera ieri sera proprio ritornando a un weekend un weekend imbarazzante un weekend di calcio di risultati falsati mettiamola così per gli errori degli arbitri l'Inter dà un segnale forte importante al campionato perché ieri era una partita molto difficile ehm soprattutto dopo i due infortuni di Cialanoglu e di eh Acerbi non era facile rimettersi a posto a livello tattico soprattutto per la mancanza di Cialanoglu perché poi dopo noi eh noi riuscivamo a tenere una palla ma l'Inter comunque ehm non si è scoraggiata ha continuato a produrre gioco perché fondamentalmente abbiamo avuto tante occasioni dobbiamo concretizzarne di più eh ed è una squadra che si aiuta in campo è bello vedere quello ed osservare quello l'Inter è una squadra che si aiuta in campo i giocatori si aiutano l'uno con l'altro quindi chiari sera ha saputo soffrire e colpire nonostante quello schifo che abbiamo visto su sull'autaro martinez l'autaro martinez fa una partita di battaglia a tutto campo io lo adoro anche quando non segna a me io anche quando non segna l'autaro lo adoro perché è un guerriero fa una fa una partita di battaglia di battaglia scusami a tutto campo poi gli capita quella palla e la butta dentro un giocatore normale quella palla lì a quella velocità la butta nel fiume lui la butta dentro il giocatore incredibile l'autaro martinez nonostante le critiche i bugugni perché in effetti lo stava nel primo tempo soprattutto non stava giocando benissimo però poi alla fine gli arrivano quando deve segnare l'autaro segna e c'è sempre un appunto per ormai non ho più parole per tikus turam che è diventato un giocatore clamoroso un giocatore che ha aumentato le skills spalle alla porta ha imparato a giocare spalle alla porta fa dei movimenti eh da nove fa sempre solo eh giocate intelligenti scatti brucianti cioè tikus è un giocatore clamoroso tikus turam è un giocatore clamoroso quindi io lo so come funziona con la clausola come lo sapete voi ma l'inter deve trovare il modo di togliere la clausola a questo giocatore perché comunque quando c'è una clausola e arriva un club interessato te comunque ti ci devi mettere a sedere a ragionare lascialo perdere i cinesi quando c'è la clausola te ti devi mettere comunque a sedere e parlare con chi te la vuole pagare è meglio evitarle queste cose qui perché poi piovono piovono le superofferte ai giocatore piovono dodici tredici quattordici milioni all'anno è meglio mettersi a posto con turam e togliere la clausola io te lo dico dall'anno scorso togliete la clausola a tikus turam perché l'è pericoloso ora c'è la partita di champions siamo rimaneggiati comunque ci sarà sicuramente davanti un nuovo attacco e io ti devo una cosa in conclusione di video che ti farà ridere lo so che ti farà ridere ma te la dico lo stesso e non te la dico per partito preso sei pronto iscriviti al canale gratis allora senti che ti dico a parte l'ammunizione a fava che prende perché interrompe l'azione parlo del ballerino a me ieri sera il ballerino non mi è dispiaciuto io te lo dico attenzione perché il ballerino può scalare le gerarchie perché qualche cosina in Italia ha fatto conosce il campionato l'allenatore lo conosce occhio al ballerino a me non è dispiaciuto e non sto scherzando ciao it grazie 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 grazie